Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Come avete detto dal titolo, oggi voglio personalizzare totalmente la mia Nintendo Switch con i prodotti della Extreme Rate, un'azienda che lavora molto su Amazon e crea dei prodotti per personalizzare tutte le console presenti sul mercato. Non solo quindi la Switch, ma anche Switch Lite, PS4 e Xbox One. Andate a dare un'occhiata perché ci sono veramente tantissimi accessori, ma io ovviamente ho scelto quelli per Nintendo Switch perché è la console che mi interessa. In ogni caso ringrazio Extreme Rate per avermi fornito i prodotti e non solo, trovate veramente tantissima roba, anche le pellicole in vetro colorate. Io ad esempio ho preso questa qui con il bordino bianco che secondo me spacca tantissimo perché risalta lo schermo togliendo lo schermo nero. Però vi farò vedere l'effetto ovviamente una volta che andrò a cambiare la skin alla mia Nintendo Switch. Ci sono tantissimi metodi per personalizzare la vostra console. Ad esempio potete utilizzare una skin adesiva che non rovina assolutamente la console. Molti di voi ogni tanto si chiedono ma se io metto la skin, la colla, poi se io la tolgo resta? Oppure no, assolutamente no ragazzi, sono dei prodotti fatti apposta. Quindi potete staccarli veramente in maniera facile. E questo metodo è il più semplice perché è abbastanza facile. Dovete semplicemente staccare la skin e attaccare sulla vostra console. E tramite un fuono fate riscaldare la colla. E lo andremo a vedere insieme. E poi c'è il metodo un po' più complesso ma che rende la vostra console molto molto più bella rispetto a una skin adesiva. Vi faccio vedere la scocca che ho scelto io. Ovviamente sono i colori che mi piacciono, raga. Ho scelto la scocca che è rosa e tende anche al celeste. Come vedete sono proprio dei pezzi che vanno montati sulla vostra Nintendo Switch e che adesso andremo a montare insieme. Ci sono anche i pezzi per quanto riguarda i Joy-Con. Ci sono tantissime personalizzazioni, tantissime scocche colorate. Veramente potete scegliere quella che vi piace di più. Io ho scelto questa perché questa colorazione la amo. E nel pacchetto trovate tutto quello che vi serve per smontare la vostra Nintendo Switch. Ovviamente se siete più piccoli fatevi aiutare dai vostri genitori perché questo metodo non è difficile però richiede un attimino di attenzione in più rispetto a una skin adesiva. Beh, io direi di iniziare! Nella confezione abbiamo tutto quello che ci serve per smontare la nostra console ed esiste anche un video tutorial. Quindi ovviamente vi consiglio di seguirlo perché non è semplicissimo questo passaggio però ovviamente col tutorial è tutto molto molto più semplice. Beh, iniziamo dal Joy-Con sinistro quindi iniziamo a smontare il Joy-Con sinistro. Tutto il resto lo mettiamo un attimino da parte e andiamo piano piano a fare il tutto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Oddio raga, ho smontato tutto Mamma mia, fa una strana impressione Ed ecco il nostro controller finito raga che dire, è veramente bellissimo ovviamente niente a che vedere con questa colorazione i tasti sono colorati a me piacciono tantissimo le cose colorate l'unica cosa è che dovete avere molta pazienza perché si lavora con delle componenti piccole le viti sono veramente piccolissime e soprattutto sono delle componenti delicate perché la funzione del controller dipende tutto da lì se seguite il tutorial è abbastanza veramente semplice non ci sono grandi difficoltà soltanto dovete munirvi di tanta pazienza e devo dire che il risultato è magnifico ovviamente potete scegliere tantissime colorazioni io ho scelto questa e onestamente sono pienamente soddisfatta perché è una colorazione veramente molto molto bella e anche al tocco non è un... dà una bella sensazione allora adesso metto da parte questo e andiamo ad applicare la skin adesiva per chi magari non ha tanto tempo e non vuole diciamo smontare la console allora la skin adesiva è una valida alternativa e potete applicarla un po' dove preferite se andate ad acquistare la skin adesiva non solo vi arriverà la skin con le varie i vari pezzi da incollare ma anche un pacchetto con le pellicole protettive ve ne danno ben due ragazzi due pellicole protettive quindi a voglia potete farvi il bagno nelle pellicole protettive io vado a prendere un attimino una pezza che mi può servire per montare quelle in metro io preferisco sempre mettere le pellicole in metro perché sono più resistenti andiamo ad applicare la skin sul retro leviamo tutto facciamo molto piano e la andiamo allora io queste cose un pochino non sono molto precisi devo togliere questi poi va riscaldata col fono per far aderire bene la colla raga allora ci sono i vari step ad esempio prima va pulita la console cosa che io non ho fatto poi andate ad applicare la skin o la pellicola chiamatela come volete fate un pochino di pressione per levare le bolle d'aria e poi con il fono la riscaldate in modo tale che la colla aderisce bene allora poi se voglio possiamo anche attaccare se la vogliamo fare completa attacchiamo anche questo qui così allora ci conviene seguire i bordini ok se seguite i bordini è molto semplice vedete raga è messa abbastanza bene adesso vado ad applicare la skin sul joycon destro allora devo riuscire a togliere queste cose qui che non mi servono faccio un po' fatica a togliere queste cose fate attenzione perché se no si piega e si rovina allora prima di tutto dobbiamo centrare bene i tasti vediamo per fortuna non è proprio precisa precisa nel senso vi lascia lo spazio quindi se sbagliate anche di qualche millimetro raga non fa niente l'importante è che non andate sul tasto ok ho rimosso la mia vecchia pellicola e vado a pulire il vetro come mettere la pellicola parte 1 fate pressione se avete con una carta io uso le mani però con le carte vengono meglio per togliere tutte le bolle d'aria raga con questa qui siccome il bordino è spesso l'aria fa fatica ad uscire quindi accompagnatela piano piano e togliete poi le bolle con le mani allora avete anche la skin per il dock quindi potete andare a personalizzare anche il vostro dock di ricarica della nintendo switch ok ho finito tra la skin colorata e la scocca probabilmente preferisco la scocca perché va a cambiare totalmente sia la nostra console che il nostro joycon potete scegliere anche di acquistare solo le scocche per i joycon e non per la console quindi non per forza dovete prendere il pacchetto completo potete prendere anche solo i due joycon senza la scocca altrimenti con la skin adesiva trovate tutto diciamo tutto incluso nel pacchetto ovviamente anche la skin adesiva è molto bella e quando vi stancate potete cambiarla facilmente perché si scolla molto molto facilmente quindi non avete problemi e non robina assolutamente il colore del joycon mentre la scocca ovviamente ricambiarla è più complesso serve soltanto un po' di pazienza raga però per quanto riguarda l'effetto che vi da la scocca beh è tutta un'altra storia allora io vi lascio tutti i link in descrizione per acquistare i prodotti se vi interessano ovviamente anche le pellicole in vetro colorate perché ve l'ho già detto fanno un effetto molto 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 bello guardando il pad cioè non so spezzano io l'ho presa bianca però c'era anche verde c'era anche azzura quindi potete prenderla un po' di qualsiasi colore fatemi sapere cosa ne pensate della mia nintendo switch soprattutto se preferite la scocca o la skin adesiva e trovate sotto in descrizione i link di tutti i prodotti che vi ho fatto vedere qui in questo video vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un bel like al video e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.